Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. La verità vi fa male lo so. La prima ancora sulla rabbia saudita voglio dire questo perché lei giustamente fa riferimento dal suo punto di vista alle leggi vigenti nel senso che non c'è una legge che lo vieta. Io però faccio un altro ragionamento che è invece etico politico.